Ciao a tutti. Oggi vi portiamo notizie piccanti dal Grande Fratello VIP riguardanti alcune richieste sorprendenti di alcuni ex partecipanti. Sembra che questi vipponi stiano chiedendo ai loro fan regali molto costosi, ma la domanda è, fino a che punto è appropriato? Recentemente è trapelato online che alcune fan sono diventate quasi delle colfo assistenti personali di una celebre coppia uscita dall'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Queste ragazze, secondo quanto letto su Twitter, hanno svolto varie mansioni domestiche, come lavare i pavimenti, pulire il bagno, fare il bucato e addirittura svolgere commissioni, come passeggiare il cane, pagare le bollette e ritirare pacchi. Ma fino a che punto è giusto coinvolgere i fan in queste attività? Inoltre, ieri è stata portata alla luce una presunta richiesta di un'altra coppia uscita dallo stesso Grande Fratello VIP. Sembra che abbiano chiesto ai loro fan di acquistare una cucina dal valore di ben 13.000 euro. È una richiesta incredibilmente costosa, ma cosa ne pensate? È giusto chiedere ai propri sostenitori qualcosa di così pregiato? Una fan ha condiviso le sue delusioni riguardo a questa richiesta su una chat dedicata ai fan della coppia. Lei e altri volevano fare una sorpresa con un regalo, ma hanno deciso di chiedere consiglio proprio alla coppia stessa. Il risultato? Un link diretto a una cucina da 13.000 euro. Cosa ne pensate di questa situazione? Oltre a questo, abbiamo scoperto anche una presunta wishlist di Amazon con richieste altrettanto costose, come fotocamere, sedi e microfoni, che un altro ex partecipante avrebbe mostrato ai suoi follower. Cosa ci dite di queste richieste? Vi invitiamo a partecipare al dibattito lasciando un commento qui sotto, credete che gli ex viponi abbiano il diritto di chiedere regali così costosi ai loro fan? O forse eccessivo e poco appropriato? Fateci sapere la vostra opinione. Speriamo che queste notizie siano solo illazioni o fake news, ma se fosse vero, sarebbe davvero preoccupante vedere come il successo possa influenzare alcuni ex viponi. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sul mondo del gossip e del grande fratello VIP. Grazie per averci seguito, ci vediamo nel prossimo video.